Sono le 5 di mattina e sto aspettando gli altri che sono tutti in ritardo, non si vede ancora nessuno. Noi siamo pronti, manca solo casella. Ricky attrezzatissimo. Ci faccia un pronostico di cattura. Il pronostico di cattura vogliamo. Dichiarato eh? Un sacco però di quelli da panino. Ci manca il mone, ci manca il mone. Adesso lo andiamo a rapire dai. Sono le 5.55, è già troppo tardi. E' un po' più bello. Fai solo della polvere Ale. Allora il mone è già lanciato. Io no, io sto guardando voi. un po' più bello. Questo va su caccia e pesca? Boh, ovvio. Come va su minchie pesca? ericchi ci sto facendo un maglione un maglione di vermi io sono anch'io pronto va che bel post però figa mi viene presa giusto il mone stavolta io anch'io sono pronto aspetta vengo giù con i guanti vieni su si ma proprio per la canna che figa non la regge mica vai tranquillo vai tranquillo c'è tutto il tempo che vuoi guarda che bello questo ma chi guarda figa lì ti bagna tutte le mani aspetta che faranno quelli siano hai visto dove ce li hai i guanti? nella sacca davanti dove c'è il mulinello lì c'è la taschettina dentro aspetta eh se non spugnava se non c'è cazzo eh ha mangiato molto regogno le vacca ci siamo ci siamo ma tranquillo Rich con tutto il tempo postagli il canno va non è lo stesso qua non vedi andare non vedi andare ci siamo salto da attacco forte quella ragazza moullata mollata c'è ancora c'è ancora ok Ora raffia, io ho provato il raffio. che magari può servire si è lì, si è lì arriva, arriva arriva, dagli il tempo, dagli il tempo permette tutto il tempo che vuoi che non siamo di fraccia eccolo io ho visto la coda io anch'io eh io ho visto la coda e non è non è piccola faccelo vedere Rick con calma oh spostami la mia canna salmone dai, entra la via recupero, recupero veloce veloce, veloce, veloce e che c'è qua sotto? veloce, veloce, veloce guarda, mi ha mangiato tutto ok, sta arrivando di lì arrivo con il raffio aspetta eh magari il raffio non serve adesso fallo venire fuori, ve lo vediamo bello, bello è bello? 2 2 e che la riparte aspetta eh 20 kg ragazzi, figa faccio faccio il coso di postura e facciamo una foto e via e si va simon poi prendiamo la macchina fotografica eh 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 oh ah 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 conceived e ti va sotto le rocce tiro in tensione Sì, sì, ho capito. Oh, scolo, eh, c'è mica più, eh. Cos'è? Oh, un bel bione. Un bel bione, un bel sbarbio. Hai visto la canna? Di qua, la più. Di qua, che lo tira su. Vai, Lamone. Bella figa di... Che hai visto che c'era la canna? Dio, stava volando dentro la canna. Ma che bello. Bellissimo. Vai, Dio santo, vai. Diciamo il cazzo. Rosso. A che bello. Oggi che vai su YouTube, eh? Ma che bello sbarbio. Vieni su, vieni su. Allora, la giornata è terminata. La mattinata è terminata. Le considerazioni della battuta di pesca? Molto buone. In generale. In generale è andata bene. Sì. Per te, sì. No, anche per gli altri. Stima del peso, della cattura? Questa è stata 30-35 kg. Per un metro e mezzo. Tizi. Qua siamo... Braghi di tela. Sì. Delmone? Eh, io ho preso. Cos'è hai preso? Un dubbiotto. Bello? Sì. Era anche buono. Abbiamo fatto anche l'intervista, eh? Eh sì. T'ha intervistato, se raccontateci qualcosa però. E niente. Deve andare un po' meglio. Eh sì. Andrà meglio la prossima. In generale. Qualche cattura in più. Ma noi non molliamo mai. Mai. Devo trovare un sistema per... Che vanno mangiate. Eh, quello lì sì. Eh. Te cosa dici? Devi fare un po' meno casino. No, no. Non faccio casino. Devi startelo... Io ho fatto... Ma lui è il migliore. Lui fa da mascotte, ci tiene vivi, se no... E Ali invece cosa dice? Eh, io... Non ho più niente di dire ormai. Abbiamo preso del caldo, abbiamo preso qualche pescione. Tocca cattura come è stata? Cosa buona è che finissero la libertà. Financio la libertà sul giornale di Piacenza perché ci ha fatto una bella intervista. E se non ci finiamo, nomi perché ti ha stancato il filo con la barca. Esatto, perché poi parcheggiato con la barca ma mi ha strappato giù tutto. Eh, va bene, andiamo bene così. Boh. Alla prossima. Alla prossima. Allora, madonna, figo, sapisco. Stiamoci d'accordo, eh? Va bene. Se no ci schiattiamo. Vado io? Vai. Allora, madonna, figo.